lascia spazio nella tua vita non riempirla completamente al cento per cento di tutto quello che sai che hai sempre saputo che hai sempre detto lascia spazio quando compri una libreria ma forse questo è un messaggio che appartiene a poche persone allora quando compri una hard disk quando compri una casa non comprarti una libreria un hard disk una casa che hanno giusto lo spazio minimo per tenere i vestiti i dati gli oggetti che tu adesso hai i libri che hai comprato fino adesso che hai letto no compra dello spazio procurati dello spazio che sia più del doppio dello spazio che attualmente usi perché c'è una crescita si suppone che tu avrai più libri si suppone che tu avrai più dati si suppone che tu avrai una casa dove ci saranno altre persone che verranno e vivranno con te anche a livello mentale lascia spazio non stare con la mente chiusa dicendo ho letto un libro in quel libro c'è tutto bene ho tutte le risposte bene poi intanto cambia l'ambiente poi intanto succede che c'è un evento che ti richiede una risposta che non c'era sul tuo libro di cui non avevi fatto l'esperienza e allora se tu dici ma cosa faccio dove trovo la risposta e il non c'è la risposta lì ti serve spazio per accogliere la risposta per accoglierla se esiste o per crearla se non esiste lascia spazio lascia spazio nei tuoi rapporti non pensare di essere lì soffocanti dicendo facciamo sempre queste cose perché le abbiamo sempre fatte allora le faremo perché le abbiamo sempre fatte lascia spazio si cambia ci sono imprevisti a volte non richiesti lascia spazio non riempire tutto con delle certezze che poi diventano superate perché ci sono altri eventi lascia spazio lascia la mente libera di poter ragionare lascia spazio fisico in modo da non disturbare chi sta vicino a te se c'è bisogno di ulteriore spazio procura di ulteriore spazio quando compri una libreria un hard disco un armadio una casa siccome tu sei uno che gestisce libri dati vestiti persone capisci che questa tua gestione questa tua legittima abitudine ha bisogno di spazio adesso e in futuro quindi prevedi la crescita lascia spazio portati a un livello più grande quando ti sembra di essere chiuso in una situazione che non funziona chiuso stretto compresso vuol dire che non hai spazio vuol dire che tu sei più grande che il tuo progetto è più grande dello spazio a tua disposizione quindi ti serve spazio lascia spazio crea spazio inventa spazio non ci sono ancora tutte le risposte da lassù non ti danno le risposte ci vuole più spazio ma avrebbero dovuto ci vuole più spazio non abbiamo ancora tutta la tecnologia ci vuole più spazio non abbiamo ancora tutti una casa dove ci sono librerie hard disk armadi ci vuole più spazio ma non abbiamo ancora abbastanza cibo non abbiamo ancora abbastanza campi coltivati ci vuole più spazio ma non abbiamo ancora abbastanza musei perché tutti possono ci vuole più spazio ma non abbiamo ancora abbastanza ospedali ci vuole più spazio ma non abbiamo ancora dei centri di meditazione ci vuole più spazio centri di meditazione ci vuole più spazio ma non abbiamo ancora ci vuole più spazio dovremmo darci un'altra organizzazione ci vuole più spazio mentale per darci un'altra organizzazione altrimenti stiamo qua dentro i piccoli spazi dove si muore di fame si fa la guerra per rubare la mela al vicino e tutto questo in una tristezza perché non ci sono le risposte perché hai letto un libro e la ti han detto una cosa però la realtà è diversa e tu non ci stai dentro ci vuole più spazio ci vuole più spazio creiamo spazio siamo esseri umani possiamo creare spazio soluzioni e un più alto livello di civiltà chi deve farlo noi hai capito il discorso e allora devi farlo tu lascia spazio crea spazio crea spazio GGG